Date a un uomo coscienza del suo valore e lui crescerà sicuro di sé e amerà la dignità degli altri. Date a un bimbo cibo per crescere e trattatelo con tenerezza, lui diventerà un uomo forte e un giorno lavorerà per il bene comune. Date a un bimbo istruzione e lui un domani vorrà insegnare agli altri. Insegnate a un bimbo ad amare l'amore e lui un giorno sarà amato dai figli dei suoi figli. Insegnate a un bimbo ad amare la natura e lui domani sarà un uomo che farà di tutto per proteggerla. Insegnate a un bimbo ad amare e onorare la sua mamma e lui un giorno quando sarà un uomo saprà amare la sua donna. Insegnate a un bimbo che cos'è il coraggio e lui un domani diventerà un leader capace di migliorare le cose e di cambiare le coscienze. Insegnate a un bimbo ad amare Dio e lui un domani avrà una sola fede, quella di amare, soprattutto i più deboli. insegnate a un bimbo.